Ciao raga, sono Valentina Lattanzio e oggi ho intenzione di mostrarvi la mia collezione di scarpe Raga, guardate, io non ci credo veramente di avere così tante scarpe Praticamente questa settimana mi scrivono i miei genitori e mi mandano questa foto sul gruppo della famiglia Non vi dico, appena l'ho vista ci sono rimasta malissimo Cioè io non pensavo di avere così tante scarpe Alcune sono anche vecchie Cioè praticamente avrò qualche scarpa tipo delle medie che utilizzavo tipo in terza media Bruttissime perché sono veramente non tamarre di più Solo che ai tempi andavano proprio queste scarpe e guardate quali sono Mi vergogno raga che indossavo veramente queste cose Ma ero tamarrissima Però comunque ai tempi se mettevi queste scarpe era la moda E quindi tutti come delle capre compravamo le scarpe così Poi non so che cosa mi è successo un giorno ho deciso anche di colorarle talmente sono furba E questo è il risultato Cioè chissà nella mia testa io che cosa pensavo di fare Sicuramente un qualcosa di super figo in realtà questo È il risultato Adesso vi faccio vedere bene dall'alto Tutte le scarpe Oh mio Dio sembra un negozio Cioè ma veramente? Provo a salire anche sul letto Cioè ma cos'ho qua? Una bancarella Vorrei iniziare subito dalle scarpe più vecchie Loro Cioè raga queste qui le utilizzavo alle medie Ma tra l'altro ho guardato il numero e non è mai cambiato Mi sa che alle medie proprio mi si è fermato il piede perché io ho il 38 da anni Da più di 10 anni Comunque queste qui le ho sfruttate tantissimo Non sembra perché sembrano nuove Ma invece Guardate qui le ho strappate tutte Cioè col tempo si sono lasciate andare Per non parlare di queste Queste sono vecchissime Mi sa che le ho comprate in terza media Terza media Secondo voi le ho mai messe? In casa In casa le ho messe Oppure forse una volta per andare fuori a mangiare Sì che poi le ho utilizzate tipo anni e anni dopo Ma orribili Scomodissime Queste sono di Enrico Covery Passiamo al prossimo paio di scarpe Ve li ricordate? Com'è che si chiamavano? Tipo indianini? Possibile Possibile Oh ma raga io ne sei già in un fiasco Non so come mai Li ho usati Ma non proprio tantissimo Infatti guardate Sono nuovi Ah no vabbè un pochino si sono consumati Qua sotto No vabbè Questi Quanti ricordi Questi qui li ho comprati nel Era tipo un'estate E dovevo andare a Ibiza Prima volta che sono stata a Ibiza Ero piccolissima Ma erano così belli Li usavo proprio la sera per uscire Stavo bene eh Adesso è arrivato il periodo superiori Quindi tutte queste scarpe Compresi gli stivaletti Che vi ho appena fatto vedere Li ho comprati nel mio periodo Delle superiori Quindi iniziamo tipo Dalla prima superiore E andiamo in avanti Alle superiori Ero fissata con queste scarpe Che somigliavano comunque A delle superga E tra l'altro Sono un po' consumate qua dietro Ho deciso di cambiare un po' stile Ho cambiato tanto eh Sempre uguali Ma con questa cosa Dietro Carine anche queste Almeno abbiamo cambiato fantasia La forma delle scarpe È sempre uguale Queste sono tipo Le scarpe Come si chiamano? Le Jeffrey? Pagate 80 euro 80 euro Ste scarpe Ma non è che sono il massimo Allora Vabbè Sono carine ok Ma il problema È che questa parte È troppo bassa Quindi non è che Ti tiene in ferma Proprio la caviglia Di conseguenza Prendo le storte Queste sono bruttissime Non so perché le ho comprate Lo prese in un negozio cinese Non costavano molto Solo che Le avrò usate Secondo me Tipo Sei volte È possibile Solo che comunque Ero anche un po' piccolina Cioè tipo In prima superiore Non è che vado in giro Con queste scarpe Cioè Questi hanno fatto La guerra Ce li ho Ce li ho Tipo Dalla seconda superiore E infatti Guardate come sono distrutti Questo non è sporco Ma è proprio La pelle che si è rovinata Qua proprio Si sta staccando tutti Ma veramente Non le voglio buttare Ma devo Andiamo avanti Allora Sono passata Sì Anch'io da questa fase La fase delle Jordan Però dai Non sono bruttissime È peccato che Non le uso mai Mi sa che queste qui Me le tengo qui Perché alla fine C'è ragazzi Sono nuove Queste qui Non mi fanno impazzire Però le ho sfruttate Tantissimo Non le ho pagate Un cavolo Tipo una ventina di euro E le ho usate tanto Solo che d'estate Li fanno sopravvi tantissimo Il piede Punto secondo Sono troppo sottili Qua si sono bucate E poi Si sente tanto tanto Il calore dell'asfalto Che è proprio bollente D'estate Sono stata tipo In terza superiore Quando ho deciso Di comprare Ste scarpe Sembrano tipo Da Bratz Queste qui Le ho presi Alla Tallywell Solo che comunque È difficile camminare Con queste Sono troppo alte Queste Bellissime Le avevo pagate un po' Ma Notate qualcosa di strano Vedete che la plastica C'è la gomma sotto È diventata gialla Non è che la luce Che fa questo effetto È proprio sul giallino Perché mi hanno detto Che se tu le metti In lavatrice Con l'acqua calda È tutto La plastica Si rovina Cioè io adesso L'ho saputo Ma vi rendete conto Poi abbiamo queste Sempre per rimanere In tema Tamaria Mai più Cioè Ok Bellissime Mi sono piaciute Sono un caro armato Ste scarpe Anche perché È come se fossero nuove Sentiamo qua dentro Cioè ragazzi Non sono nemmeno rovinate Solo che Anche qui Vedete qua sotto la gomma Che si è ingiallita tutta E purtroppo Non viene via Io e la mia famiglia Quando siamo delle famiglie Hanno bisogno comunque Di un aiuto Quindi anche quando Tipo i vestiti Non li uso più Prepariamo un bel sacco Di vestiti E regaliamo tutto Queste stupende Me le ha regalate Una mia amica Mi piacciono tantissimo E sono praticamente Nuove Queste qui d'estate Le utilizzo ancora Dai ragazzi Queste qui Sono carine Queste Il problema È che le mie amiche Hanno sbagliato numero Hanno preso il numero 39 Cioè io mi chiedo perché Quindi non le ho mai messe Questi per forza Dobbiamo averli Questi qui Li utilizzo tuttora Anche prima Sono scesa con Chloe Giù Per portarla a spasso E ho utilizzato questi Sono della Timberland Sono un mattone Veramente sono un caro armato Ce li ho tipo Da 5 anni Penso Andiamo avanti Queste bellissime Anche adesso le utilizzo Per l'estate Sono il top Per l'inverno Un po' meno Anche perché ti fanno Contelare Tarara Nuovo acquisto Pagate un cavolo 15 euro Con il Black Friday Ma sono bellissime Raga Mi stanno da Dio Ieri le ho provate Ma pazzesche Queste qui Non le ho ancora indossate Anche perché Questa settimana Piove tutto il tempo Ma a prescindere Non le indosso In questo periodo Perché alla fine Io esco di casa Solo per portare Chloe Quindi andare Nell'area cani Con queste Sarebbe Solo un disastro Queste sono le scarpe Che utilizzo tuttora Sono di Armani Comodissime Qui abbiamo Degli stivaletti Anche questi qui Ce li avrò Tipo da 4 anni Solo che Non mi ci vedo molto Perché Mi fanno il polpaccio grande Non mi piacciono Questi li Adoro Sfruttati tantissimo Bellissimi Sono un po' bassi Infatti adesso Ne ho comprati altri Uguali Con il tacco Molto più alto E con il plateau Solo che comunque Col passare degli anni Questa parte Si è allargata molto Infatti Anche con i jeans Mi cadevano un pochino Qui abbiamo Anche due sandali Estivi Bellissimo Questi qui ce li ho Da un po' di anni Solo che dietro Ho rotto la cerniera Devo chiedere a papà Di sistemare una Che lui l'aggiusta tutto Capace A fare Qualsiasi cosa E in più Abbiamo Questi Bellissimi Comprati Quest'estate Con i saldi Pagati niente Anche queste scarpe Le ho comprate Quest'estate Questi qui Le ho messi Tipo due volte Vero Questi I miei tacchi preferiti Che utilizzo Praticamente sempre Vabbè Me li avrete visti Sicuramente anche Nelle foto Sono comodissime Raga Poi comunque Sono anche eleganti Con il laccettino E sono le mie pretende Anche queste Sono le mie preferite Ma per l'estate Naturalmente Le altre almeno Sono un po' chiuse Ma anche con le altre Adesso fa bellissimo Queste bellissime Hanno anche un po' di oro Le adoro Molto comode Anche perché Il tacco è basso Ta 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 Bellissimi Queste ce le ho Tipo da Due tre anni Possibile Stupende Raga Molto elegante Tipo con un pantalone A zampa Di elefante Queste qui Sono perfette Secondo me Un altro Nuovo Questo Arrivate L'altro Ieri Le ho già utilizzate Un paio No Una volta Le ho utilizzate Cosa dico Le ho utilizzate Una volta E già un pochino Le ho sporcate Ma le ho Puglitte Le ho comprate Perché comunque Almeno Anche se piove C'è un po' di neve Io con questi qui Posso uscire tranquillamente Posso essere comunque Elegante Anche con la pioggia Piuttosto che uscire Con degli stivali Bassi Questi comprati Mi sa questo estate Non li ho mai usati Guardate che hanno ancora I cosi Che coprono Le cinghiette Sono rimaste Le ultime scarpe Queste bellissime Nero giardini Mi sa che qua davanti Sono un po' strette Però Spende Poi ci sono questi stivali Tutti transandati Conciatissimi Infatti questi Gli uterei Tipo per portare Giù colore Poi abbiamo queste Comprate sempre In un negozio Dei cinesi Belle ma Tamarre E infine L'ultimo paio Di scarpe Leggerissime Comprate per far Ginnastica a casa Durante la quarantena Scorsa Secondo voi Le ho mai utilizzate? Sì Una volta Però almeno Comunque Io tutto il materiale Per far palestra Ce l'ho Quando Mi deciderò Le cose Le ho già comprate No Mi sono portate avanti Comunque raga Commentate qua sotto Con le scarpe Che vi sono piaciute di più Seguiteli su tutti i social E mua Ciao raga Un bacione grande grande Sì 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 Sì